Mario Chiarini, importante vittoria dopo un weekend più caratterizzato dalla pioggia che dal gioco, naturalmente se arrivate a giocare domenica sera a quattro ore di partita ripeto però per voi una vittoria molto importante. Sì, molto importante perché veniamo da molto weekend con Bologna, era essenziale per noi questa vittoria per guardare anche ai prossimi appuntamenti, anche con un po' meno di pressione visto che comunque le partite sono molto poche e quindi bisogna mettere più vittorie possibile in classifica. È andata bene, è stata una partita combattuta, è stato difficile mantenere la concentrazione per tre giorni perché praticamente siamo venuti su da venerdì e poi abbiamo giocato la domenica, è andata bene. Le classifiche si sono messe in una maniera imprevista, ci sono nel girone A Padove Godo davanti a San Marino e nel girone B c'è il Nettuno che comincia ad avere un vantaggio anche sensibile sulla terza. Sì, il campionato, la prima fase è molto corta quindi è normale che ci sia una classifica corta tra quelle che ci contendono la fase successiva. Sono tutti weekend molto importanti e bisogna giocare al 100% tutte le partite perché non si possono commettere errori. grazie a tutti. Grazie!